ecco un parapendio in atterraggio ora proprio contro solo in questo momento ora si vede meglio fa un ingresso particolare nessuno mai visto nessuno entrare in questa direzione vediamo lui è questo no 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 questo qua è un pilota ospite a film sì sì eccolo qui che entra entra la quota giusta boh non credo non credo ed eccolo in finale no ma poi la sua è rossa perché è blu eccolo in finale guardi come vai lungo nonostante che entri basso ma si ma anche io sono andato lì non sono andato laggiù sono andato a finire mi leva su guarda come sta sulla vela vuol dire che il vento è girato da su destra guarda come sta su bene adesso guarda dove li è caduta sopra l'ha fatta cadere l'ha fatta cadere sopra l'ha fatto preso manco la sabbia oh atterraggio di precisione proprio ecco lì che ricopri la vela ce la tiri su e non c'è manco la posta penso di sì perché ha atterrato un po' prima ha fatto qualche metro vedi e così si è fatto cadere la vela senza che prenda sabbia bella idea complimenti grazie a tutti